9, Conrado Genovese, in corsia numero 2, Marchino, Marco Rappelli, in corsia numero 3, Magri, Magalissandro, in corsia numero 4, il Despota, 9, Baldoni, Max, vinca il migliore, bocca al lupo. Pronti? Siete pronti? Via! Pronti? Pronti? Nezahlvo? Saraino- Exchangelan, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti